Musica Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni nel territorio. Quest'oggi abbiamo il piacere di trovarci nella questura di Belluno dove incontriamo il signor questore Giuseppe Maggese. Bentrovato signor questore. Buongiorno a lei e ai teleascoltatori. Grazie per l'ospitalità, grazie per il tempo che ci dedica per affrontare varie tematiche che riguardano la vita del nostro territorio e della nostra comunità bellunese. Comincerei naturalmente col tema della sicurezza signor questore. Un giudizio quindi sulla realtà che rappresenta il territorio bellunese tenendo conto comunque anche degli ultimi accadimenti che forse hanno così animato, mi riferisco in particolar modo a Ponte nelle Alpi, anche l'opinione pubblica. La situazione dell'ordine della sicurezza pubblica nella provincia di Belluno è una situazione che mi sento di definire assolutamente sotto controllo. Lei accennava qualche episodio occorso negli ultimi tempi, ma appunto io ne sottolineerei il carattere di episodicità. Chiaramente si tratta di episodi gravi anche per certi versi su cui stiamo lavorando e su cui confido, si possono ottenere buoni risultati in termini investigativi, in tempi ragionevoli appunto. E questo mi auguro possa contribuire a non tranquillizzare perché la situazione è tranquilla, ma a dare la dimostrazione che chi si rende responsabile di certi tipi di condotte non può avere la speranza di farla franca. Per cui, al di là di quelle che possono essere le motivazioni, sono fiducioso del fatto che si possa, come dire, addivenire ad una soluzione, almeno per quanto riguarda gli episodi specifici, in tempi ragionevoli. Ecco, comunque in generale possiamo dire un territorio tranquillo, anche la percezione del cittadino stesso, quale risulta essere a voi? Sì, anche se noi guardiamo le statistiche relative ai reati, ci confortano, nel senso che in linea di massima quello che si definisce il trend, quindi la tendenza è alla diminuzione, salvo alcune tematiche, salvo alcune forme di reato che hanno tendenza a salire, ma che sono reati specifici, sono forme criminose legate all'uso di strumenti tecnologici come la rete e via discorrendo, che non vengono ovviamente perpetrate nella provincia di Belluno, ma vengono perpetrate altrove in maniera ubiqua, come è ubiqua la rete. Le vittime però sono vittime che vengono colpite in questa provincia, come in tante altre province, poi uno dei reati in linea generale che a livello nazionale aumenta è appunto il numero dei reati di carattere informatico, ma inevitabilmente tenuto conto dell'uso che se ne fa e anche talvolta delle precauzioni non sufficienti che vengono adottate durante quest'uso che si fa della rete. Ecco, spesso, signor Questore, la popolazione principalmente coinvolta da questa tipologia anche di criminalità sono le persone anziane e sappiamo che in provincia di Belluno l'invecchiamento della popolazione è significativo. Sì, questo senz'altro, però ecco, c'è sicuramente una certa fascia della popolazione che per natura è più facile in qualche modo da raggirare, in ragione appunto di una prontezza di reazione che non è più quella di una volta, mettiamola così. Sono in tantissime anche le vittime che non hanno la giustificazione, parlo di giustificazione, ma sono appunto vittime di essere anziane, ma che in qualche modo vengono raggirate perché non hanno adottato misure, diciamo così, di carattere cautelativo adeguate oppure vengono raggirate proprio in ragione di quella che è una loro debolezza di carattere psicologico non necessariamente legata all'età. Qual è il consiglio quindi da dare in queste situazioni? Ma, sa, consigli non è facile darne perché chi sta sulla rete, il fatto stesso di andare in rete si espone in qualche modo. Il consiglio è quello di essere molto prudenti e non fidarsi, soprattutto per quanto riguarda truffe che coinvolgono aspetti di tipo sentimentale, fantomatiche figure femminili che compaiono, che carpiscono poi l'attenzione e la fiducia di persone magari sole che poi vengono indotte ad azioni di danaro perché poi il fine ultimo è quello, ecco. Da questo punto di vista, ecco, in queste situazioni il suggerimento è sempre quello di essere molto, molto prudenti. Signor Questore, voltiamo pagina. All'orizzonte vi è la data della 25 novembre, data emblematica che ci ricorda la giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. Quindi, il fenomeno della violenza di genere, come in qualche modo coinvolge il territorio della provincia dolomitica? Come ogni anno, in occasione di questa importante ricorrenza, noi abbiamo tutta una serie di iniziative, tra cui non ultima quella di un camper itinerante che toccherà tutti i capoluoghi, qui i comuni più importanti della provincia di Belluno, con il nostro personale, che sarà disponibile per una campagna di informazione e di sensibilizzazione, come abbiamo fatto già anche negli anni passati, purtroppo con l'interruzione dovuta al Covid, che logicamente dal punto di vista della prudenza non consigliava campagne itineranti. Ma già dall'anno scorso abbiamo in qualche modo ripreso il contatto con l'utenza, in maniera tale da sottolineare il problema, perché per noi è qualcosa di assolutamente importante. Quindi, più ci saranno incontri nelle scuole, quindi saranno poste in essere tutte quelle che sono le iniziative che caratterizzano questa data, che è molto significativa. Comunque è un fenomeno che non vede esente la provincia di Belluno, purtroppo... Perché nella provincia di Belluno il problema esiste, come in tutte le altre province, con numeri che sono più o meno, in termini percentuali, quelli degli altri capoluoghi, e quindi c'è un fenomeno di questo tipo anche nella provincia di Belluno, su cui noi interveniamo in maniera sistematica, ma appunto è un fenomeno che non siamo riusciti a debellare, che ha purtroppo una tendenza endemica, e quindi i numeri rimangono più o meno gli stessi, quelli che noi constatiamo. Poi ci possono essere delle variazioni in più o in meno, ma non di particolare intensità. Quindi è un fenomeno che ha una sua stabilità, nei confronti del quale noi stiamo adottando tutte le misure del caso, quindi chiunque si rivolge a noi viene seguito nella maniera più attenta possibile, sperando che attraverso questa campagna di sensibilizzazione si possano, anche perché, ripeto, il problema della violenza di genere è, come già noto e evidente, è un problema di carattere soprattutto culturale. Quindi noi interveniamo, cerchiamo di fare la nostra parte, anche sotto il profilo, diciamo così, pedagogico, con incontri nelle scuole e via discorrendo, ma quello che deve cambiare è la mentalità. Certo, quindi un approccio orientato alla repressione, ma soprattutto alla prevenzione verso questo fenomeno. questo punto di vista, nel senso che, come ripeto, la nostra presenza nelle scuole e anche in altri contesti è una presenza ormai costante, che ci porta via tempo e risorse, naturalmente, ma su cui noi confidiamo molto, ecco, proprio come diceva lei, perché si tratta di cercare di prevenire, e la prevenzione in questo caso è una prevenzione che puntata, come dire, focalizza la propria attenzione sull'elemento culturale. Ecco, signor Questore, parlando di mondo della scuola, ci ritorna alla mente anche il progetto che porterà alla riqualificazione dell'ex caserma Fantuzzi di Belluno, un immobile destinato a rinascere per ospitare anche la polizia di Stato. Come procede, infatti, la roadmap? Che tipo di aggiornamento ci può dare? Ci sono state diverse riunioni negli ultimi tempi per cercare di risolvere alcuni nodi legati alla questione, che sono nodi di non facile soluzione, perché sono nodi di carattere economico e giuridico, ho tenuto conto anche del fatto che al progetto, nel suo complesso, partecipano molti enti. E da questo punto di vista ci sono anche delle componenti di carattere, appunto, come dicevo, finanziari o giuridico che necessitano di soluzioni adeguate e non sempre alla portata. Ci stiamo impegnando tutti, da questo punto di vista, per cercare di finalmente divenire ad una soluzione che possa consentire di iniziare i lavori. Lavori che sono parzialmente iniziati per una componente del progetto, che è quella relativa ai nuovi uffici passaporti e stranieri, su cui si sta già lavorando, perché rimane in qualche modo distinta rispetto al progetto di carattere generale, che con riferimento al quale ci vorrà necessariamente più tempo. Speriamo, ecco, i lavori relativi a questa componente di cui le dicevo stanno andando avanti e quindi siamo fiduciosi che in tempi... Quali vantaggi comunque di questa operazione? Beh, intanto che vantaggi saranno un risparmio in termini di risorse, no? Nel senso che avremo dei locali che saranno di proprietà demaniale, quindi non dovremo più sborsare dei canoni di locazione, quindi da questo punto di vista. E in più avremo questi uffici molto vicini alla questura e quindi anche da questo punto di vista sotto il profilo della logistica per noi le cose saranno molto più semplici e anche per l'utenza. Devo dire che anche adesso l'utenza tutto sommato l'attuale ubicazione dell'ufficio passaporti, della divisione amministrativa e dell'ufficio migrazione sono facilmente raggiungibili anche quelli. Però chiaramente il fatto di averli vicini alla questura sarà sicuramente un progresso da questo punto di vista e in più si avranno anche uffici progettati espressamente per l'uso che se ne farà, quindi anche a beneficio di quello che sarà l'agio con cui l'utenza potrà fruire del servizio. Ecco, un'altra questione che tocca da vicino anche a voi è quella della carenza d'organico. Sappiamo, sono tante le realtà che soffrono di questa problematica dall'ambito sanitario, le forze dell'ordine appunto, il sistema, il mondo della scuola. Su questo, qual è la fotografia attuale tenendo conto comunque anche dell'importante evento all'orizzonte o ormai lo sguardo proiettato al 2026 ma poi anche il turnover che c'è nei vostri ambienti? La situazione dell'organico della Polizia del Stato della provincia di Belluno rispecchia un pochino quella che è la situazione generale. Negli ultimi tempi, devo dire, ci sono state delle assegnazioni di personale giovane perché il problema non è solo una questione di organico to cure ma anche una questione di invecchiamento dell'organico. Nel senso che un conto è avere un organico di un'età media di X e un conto è avere un organico di un'età media più elevata. Quindi questo comporta tutta una serie di svantaggi. Ovviamente un organico di persone più giovani consente un'organizzazione dei servizi più efficiente. Quindi diciamo che negli ultimi tempi la tendenza si è invertita nel senso che ci sono coiniziate assegnazioni di personale di nuova nomina. Ovviamente per in qualche modo risolvere il problema o riportarlo entro una dimensione più trattabile diciamo così ci vorrà un po' di tempo. Ci vorrà un po' di tempo. E guardando le Olimpiadi 2026? Il discorso delle Olimpiadi è un discorso che è assestante. Quindi chiaramente le assegnazioni di personale in occasione di questi eventi sono assegnazioni straordinarie e che prevedono soprattutto lo strumento dell'aggregazione. Ma in questi casi si parla di aggregazioni che moltiplicano quella che è la dotazione organica ordinaria di molte volte. Per cui questo è un discorso che io lascerei a parte. Chiaramente ci dovrà essere una rivisitazione di quella che sono gli organici di tutta la provincia in occasione di questo evento per prepararsi meglio. Ma l'evento in quanto tale viene affrontato in modo attrezzato. Un'ultima domanda signor Questore adesso imminente è l'inizio della stagione invernale. Come anche il sistema della sicurezza si sta predisponendo a questo evento? Come ogni anno noi metteremo in campo tutta una serie di risorse che sono ormai ampiamente collaudate perché unitamente alle altre forze dell'ordine nonché anche all'esercito parteciperemo parteciperemo ci faremo carico di quella che è la sicurezza sulle piste di sci. Quindi nei diversi compressori qui della provincia noi saremo presenti con il nostro personale allo stesso modo delle altre forze dell'ordine dell'esercito per assicurare questo importante servizio che ci viene in qualche modo riconosciuto ormai in maniera estesa ma ormai è una tradizione. Certo per noi ribadisco si tratta di un servizio che comporta un investimento di risorse particolarmente significativo sia sotto il profilo numerico ma non solo per noi perché ci tengo a dire che il personale che viene impiegato viene da tutta Italia trattandosi di personale specializzato che deve essere anche precedentemente formato nel senso che il personale che viene utilizzato sulle piste deve essere provetto sciatore ovviamente quindi con un brevetto di qualità particolarmente rilevante e in più è personale anche specializzato in quelle che sono tutte le attività di soccorso e non solo anche in quella che è tutta l'attività della gestione giuridica degli eventi su cui si trovano ad operare quindi ecco da questo punto di vista sforgiamo un servizio per il comprensorio diciamo così scistico delle dolomiti bellunesi di estrema importanza Sir Questori io la ringrazio del tempo che ci ha dedicato ovviamente abbiamo fatto una veloce panoramica delle tante attività dei tanti dossier sui quali ovviamente la Questura è impegnata ma grazie ancora e buon lavoro grazie a voi per le occasioni che mi avete dato in qualche modo di portare la voce di questa istituzione alla popolazione bellunese a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto arrivederci grazie a tutti grazie a tutti